White Economy, un gigante economico, almeno stando ai dati del rapporto annuale della filiera della salute presentato da Confindustria, un driver dell'economia italiana che contribuisce per il 10,7% al PIL nazionale e dà lavoro a 2,4 milioni di persone, il 10% dell'occupazione complessiva. Il perno decisivo di questa economia, rileva l'analisi, è costituito dall'industria privata, in miglioramento sia in termini percentuali sul totale nazionale che assoluti. Il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, il rischio è che entri in crisi il principio di universalità, uno dei pilastri del Servizio Sanitario Nazionale. Si è ridotta di molto la percentuale di finanziamento pubblico, quindi di fatto quello che è messa la cosiddetta spesa auto-pocket che è quella che di fatto pagano i cittadini.